eccoci pronti per la rassegna stampa di fano tv buongiorno amici oggi è mercoledì 5 ottobre 2022 passiamo subito all'almanacco perché abbiamo tante notizie poi da rilevare pubblicate oggi dai giornali con cronaca locale il resto del carlino e il corriere adriatico passiamo subito all'almanacco e vediamo il santo del giorno un santo molto molto attuale si tratta di santa maria faustina covalsca conterranea di giovanni paolo secondo che la santifiche che la santifico la elevò agli onori degli altari nell'anno 2000 suora della congregazione della beata vergine maria della misericordia fece i mestieri più umili da giovane quando appunto entrò in convento cucina giardino portineria e nel 1934 iniziò un diario in cui descrisse le sue esperienze mistiche tra cui anche la rivelazione di gesù sulla coroncina della divina misericordia una pratica religiosa questa che poi si è diffusa grandemente in tutto il mondo in italia in germania insomma in tutto il mondo in europa e anche nelle americhe e quindi una santa attuale una santa moderna che però usa una pratica antica quella di pregare col cuore e che è sempre valido vediamo ora le previsioni del tempo un tempo che continua a mantenersi mite sulla regione marche tempo stabile assolato per gran parte del giorno questo ci dicono i meteorologi oggi in serata qualche nube medio alta tenderà ad offuscare il cielo i venti sono ancora deboli spireranno sulle coste da una direzione di est e sud est nell'interno invece con una tensione debole come abbiamo detto da est le temperature si aggirano dai 14 ai 21 gradi e sono sempre in calo lentamente ma sono in calo la minima per esempio ormai ha toccato i 14 i giorni scorsi era i 16 ve la ricordate quindi un leggero calo c'è stato vediamo anche un'immagine del nostro territorio guardate quanto è bella all'orizzonte l'alba quel chiarore colorato di arancione ma molto tenue che poi si sfuma nell'azzurro è il sole che sorge la foto è stata fatta nella spiaggia di gabice mare una delle locale a più risti turistiche più importanti della nostra provincia la vediamo che ormai è sgombra di ombrelloni perché la stagione è finita ma comunque ancora la temperatura mite resiste ed ora diamo un'occhiata ai giornali a partire dal corriere adriatico vediamo subito la pagina di fano eccola qui e l'apertura dedicata all'asfaltatura delle strade un argomento sempre che appassiona i cittadini i residenti costretti spesso a camminare su strade imperie bucherellate strade degradate appunto da buche avvallamenti asfaltature stanziati ulteriori un milione e mezzo per rimettere in sesto 15 strade ecco l'elenco degli interventi viene pubblicato su questo articolo a firma di andrea maduzzi il 53 annunciati un anno fa slittati all'inizio dell'estate è ancora in corso sono cominciate l'inizio dell'estate le asfaltature le nuove asfaltature a fano poi c'è stato un rallentamento causato dall'aumento delle materie prime ora vengono ripresi questi lavori si vedono poco perché il sindaco ha detto che vengono fatti in periferia e quindi sono non sono molto visibili ma continuano si fanno e qua c'è un elenco di strade che saranno asfaltate di nuovo ve ne elenco ve ne dico qualcuna dunque vediamo la bretella dell'aeroporto quella del cavalcavia di tre ponti la strada comunale le cave la strada comunale villa giacomini e poi ancora la strada comunale torno che connette falcineto con la provinciale di cerbara e scendendo verso il mare si opererà e su via delle brecce che congiunge viale piceno con la zona di baia metauro e poi ancora via della paleotta nel merino anche via fanella nel segmento che va dall'incrocio con via davide squarcia e via bregata messina centinarola e poi abbiamo abbiamo altre vie in altri quartieri via nazario sauro vediamo ancora via della giustizia via ugo bassi e nei pressi di casa archilei archilei da poco è stata asfaltata via mameli insomma c'è un lungo elenco di strade che verranno finalmente curate e rimesse in sesto e veniamo ancora che la questione del campo fotovoltaico quel grande campo fotovoltaico progettato a carrara desta l'attenzione dei giornali questa mattina si punta il fuoco su una casa in modo particolare una palazzina di sei unità abitative questa palazzina verrebbe a trovarsi tra due fuochi e già nei pressi della centrale elettrica di carrara insomma una un sistema produttivo di particolare importanza e non del tutto non invasivo voglio dire per quanto riguarda il territorio e poi dall'altra parte se venisse la luce nel progetto di questo campo agri voltaico verrebbe a trovarsi a contatto con la centralina di trasformazione dell'energia da medio ad alta intensità ad alta tensione e quindi sarebbe da una parte la centrale elettrica dall'altra l'altra centralina veramente i residenti di questa strada non potrebbero più vivere ci saranno radiazioni ci sarà ancora rumore ebbene questo non si sa ma si spera che non si faccia il progetto e questo l'ultimo fine e poi si parla di sanità questa mattina sui giornali perché l'argomento è stato oggetto della seduta di ieri del consiglio regionale si è parlato di sanità ortopedia e i 50 posti letto di carignano questa è una domanda che è stata posta l'assessore alla sanità filippo saltamartini ma saltamartini non ha risposto non ha detto né sì e né no insomma derogato alla domanda la dotazione richiesta dalla proprietà delle terme è intervenuta anche la consigliera regionale del movimento 5 stelle marta ruggeri vorrei sapere se siete come ceriscioli ovvero quelli che svicolano alle domande questo un po è il senso della dichiarazione di marta ruggeri comunque l'assessore regionale alla salute filippo saltamartini ieri in consiglio regionale ha dichiarato di non essere in grado di anticipare quale destinazione avranno quei 50 posti letto richiesti appunto dalla società del gruppo romani per la realizzazione della spa della di questa di queste nuove terme di questa nuova clinica anzi dobbiamo dire meglio che sarà realizzata contemporaneamente alle terme e nella piana di carignano le valutazioni sono state attribuite all'ambito del piano socio sanitario regionale la cui elaborazione si sta concludendo quindi saltamartini non ha fatto alcuna anticipazione al momento non ha detto né sì né no non posso rispondere di ciò che hanno affermato dei soggetti privati ha puntualizzato l'assessore so solo che tutta la questione la affronteremo qui in consiglio regionale con il piano socio sanitario quindi bisogna aspettare ancora e a fondo pagina abbiamo invece una notizia di cronaca terrorizzava l'ex moglie e la tempestava di telefonate e deve rispondere il suo comportamento in tribunale dove il racconto della vittima ha così messo in luce il comportamento dell'uomo si tratta di un tunisino che è andato a processo per atti persecutori lui appunto è un tunisino sulla trentina e la sua ex moglie e la sua ex moglie lo ha appunto accusato di stalking e l'uomo era stato oggetto di un provvedimento di non avvicinamento alla moglie ma vi ha derogato più volte una volta era l'ottobre del 2019 era entrato a casa sua lei ha raccontato di aver aperto il portone e di aver sentito una mano che la tirava dentro e la mano era ovviamente la sua poi un'altra occasione lui aveva approfittato di una finestra semi aperta per entrare farsi trovare in salotto ecco perché e ora deve rispondere di questi atti e non doveva farlo e lo ha fatto ma l'udienza è stata rinviata al 23 febbraio prossimo quando il giudice emetterà la sentenza giriamo la pagina e passiamo al valmetauro ma sulla pagina del valmetauro si parla ancora di fano perché c'è un timore c'è un timore coccente importante l'arzilla l'arzilla non ha avuto problemi durante gli ultimi fortunali quando il miso invece sappiamo che cosa ha prodotto quanti lutti e quante rovine è stato causa questo torrente che sfocia a senigallia l'arzilla che sfocia invece nei pressi di fano pur ingrossandosi è rimasta quieta è rimasta negli argini ma che cosa accade all'interno del letto del torrente dell'arzilla accade che la vegetazione ha invaso un po' tutto l'ambiente rami alberi cespugli ramaglie insomma l'acqua non ha più il modo e lo spazio per scorrere e se arrivasse un'ondata di piena ebbene se ondasse un'esame una ondata ripiena evidenzia sergio carboni che abita nei pressi di ponte mimmo sergio carboni è il figlio di mimmo l'erborista a cui è stato intitolata questa piccola infrastruttura noto in tutta fano per la sua attenzione all'ambiente ebbene se arrivasse un'ondata di piena dice sergio carboni sarebbero veramente molti molti guai perché l'acqua non avendo lo spazio per scorrere deborderebbe nei lati e invaderebbe i campi limitrofi ormai il letto dell'arzilla non si vede più la vegetazione l'ha completamente invaso e bisogna tenere conto di queste grida d'allarme in maniera preventiva perché poi quando arriva veramente la disgrazia correre ai ripari beh insomma desta molti molti problemi l'emozione di lavorare nella sala del cenacolo è una restauratrice di fossombrone caterina pergolini giovane brillante restauratrice forse impronese che si sta facendo onore in tutta italia ora fa parte dell'equipe che restaura un grande dipinto nella sala appunto del cenacolo a milano ebbene da una parte c'è il cenacolo di leonardo da vinci dall'altra parte dalla facciata speculare del muro c'è la crocefissione dipinta da giovanni donato di montorfano è un dipinto molto bello importante che non si nota però perché perché quando uno entra in questa sala l'attenzione viene subito catturata dal cenacolo di leonardo da vinci magari si butta un'occhiata dal dipinto che c'è dalla parte opposta in realtà capire vedere ammirare questo dipinto della crocefissione desta una grande emozione e ne desterà ancora di più dopo la dopo il restauro che in questi giorni viene fatto grazie anche a caterina che appunto fa parte dell'equipe e vediamo anche la pagina di senigaglia in centro la sosta è gratis fino a domenica quanti pericoli in strada auto contro mano ebbene dopo il dopo i disagi dopo i problemi causati dall'alluvione a senigaglia ci sono problemi anche sulla viabilità per per esempio è stata istituita la sosta gratuita in centro storico fino a domenica prossima come deciso ieri dalla giunta che ha studiato le modifiche alla viabilità per far fronte alla chiusura di ponte garibaldi è accaduto che gli automobilisti vedendo il ponte chiuso spesso abbiano proseguito dritto in via rossini imboccando contro mano via 20 settembre per poi attraversare sempre in senso evietato anche il ponte degli angeli dell'8 dicembre del 2018 per fortuna fino ad oggi non si sono verificati incidenti ma la situazione sta diventando pericolosa ed è sta preoccupazione ecco perché vengono attuati questi provvedimenti per cercare di essere in maniera precoci per evitare incidenti l'osteria conte marzi è chiusa il caro bollette colpo di grazia il caro bollette ancora oggi viene evidenziato in modo particolare sulle pagine dei giornali si parla degli effetti che questo desta non solo alle famiglie ma anche a tutti coloro che lavorano alle aziende agli artigiani ai commercianti insomma a coloro che hanno bisogno della energia per mandare avanti la loro attività c'è il secondo stop dopo maggini food and drink prima il covid poi l'utenze siamo costretti a dire basta e quindi questa è un'altra azienda che purtroppo cede di fronte al caro bollette e vediamo quindi questo argomento come viene trattato anche nella pagina di pesaro qui si parla addirittura di blackout dei negozi vetrine spente contro il le bollette monstre dopo la chiusura molti scelgono di non lasciare più le luci accese la sera la conferenza centi che è l'autrice di questo allarme sono state fatti tanti di allarme dice rincari tra le conseguenze anche la sicurezza percepita c'è un problema anche di sicurezza quando si spengono le luci l'allarme tangibile arriva appunto da questa associazione di categoria negozianti commercianti artigiani alle prese con le difficoltà mensili dell'abbigliamento alle rivendite gli accessori scarpe tipicità che per risparmiare hanno scelto di non illuminare più con i faretti le vetrine o di regolare il timer al ribasso comunque sarà molto triste il centro storico senza luci perché quando è spento c'è tristezza c'è malinconia e c'è anche poca attenzione nei confronti appunto dei negozi è un problema che gira su se stesso e magari la soluzione danneggia gli stessi autori di questo provvedimento superiori il sabato in dad oppure la settimana corta superiori ovviamente si parla di scuole la provincia le prese con il rompicapo dei costi del riscaldamento l'aveva già detto il presidente della provincia giuseppe paolini che c'erano risorse soltanto fino al mese di dicembre poi se lo stato non interverrà saranno veramente problemi non si sa come fare per pagare le bollette la bretella paga pegno al maltempo lavora in stand by ora la ripartenza all'interquartieri di muraglia ruspe di nuovo in azione e anche fossi per consentire lo scolo dell'acqua l'alluvione del 15 settembre ha messo in ginocchio cantiano sappiamo bene i danni che ha subito questo comune e il maltempo di giorni successivi ha colpito seppur in maniera sicuramente meno pesante tutto il tratto costiero prova ne sono gli alberi caduti in zona mare sabato 17 a pesaro poi ci sono anche gli effetti meno diretti ma che comunque hanno creato molti grattacapi soprattutto legati alla pioggia in questo caso ad aver subito alcune ripercussioni sensibili è la bretella di muraglia con il cantiere aperto che in più di tratti è stato trovato con acqua stagnante sul terreno i lavori si sono interrotti c'è stata una pausa e ora invece la ripartenza e qua vediamo invece l'articolo di un'altra ripartenza quello di pediatria e ostetricia all'ospedale san salvatore di pesaro da tempo il reparto era stato unificato al santa croce di fano ora c'è una data sicura di ripartenza è il 5 dicembre prossimo saltamartini lo ha convalidato però il problema sono i medici insomma bisogna trovare anche il personale per sopperire alla carenza Marche Nord ricorre a una cooperativa Biancani il consigliere regionale del partito democratico e quindi di opposizione si dice soddisfatto con riserva comunque è quasi tutto pronto per la riapertura a pesaro del dipartimento materno infantile che la regione Marche ha annunciato appunto per il prossimo 5 dicembre una buona notizia piazza salvataggio per la ragnatela recuperati i blocchi già in deposito che cos'è la ragnatela è semplicemente il disegno che i san pietrini facevano nel pavimento di piazza del popolo a pesaro i san pietrini come sapete sono stati rimosso per il rifacimento della pavimentazione ma ora il disegno seicentesco della ragnatela sarà rimesso al loro posto e saranno impiegati anche molti dei selci delle pietre che sono state rimosse per fare i lavori quindi sono materiale originale che verrà reimpiegato e qua una notizia di cronaca accusato di violenza su una ragazzina lui nega il rapporto era consenziente al giudice il giovane ha aggiunto di ignorare che fosse minorenne la vittima però si è costituita parte civile chiede 100 mila euro di risarcimento si tratta di un giovane 17enne di una giovane 17enne che non è stata sentita in tribunale nell'ultima udienza perché il giudice ha considerato che quello che aveva acquisito era già sufficiente invece è stato sentito l'imputato che è un ventenne originario della sicilia residente nelle campagne pesaresi la ragazzina avrebbe avuto un blackout di circa quattro ore in cui i ricordi della minorenne sono confusi per via dell'alcol la tesi è quella che lei avrebbe bevuto su istigazione appunto del ragazzo il quale l'avrebbe poi accompagnata in una casa di campagna e qui avrebbe abusato di lei però insomma è tutto da decidere da provare veniamo anche ad urbino via libera al modello di albergo diffuso nel segno del turismo e dell'accoglienza il comune approva la variante per gli edifici del centro storico importanti ricadute per il settore ricettivo e la stessa notizia viene evidenziata sulla pagina del resto del carlino la pagina di urbino adesso la troviamo eccola qua però e con un altro con un'altra visuale meno metri quadri per case e alberghi diffusi presentate le varianti al piano regolatore l'intento è quello di favorire la presenza di più strutture e consentire di fare case più piccole quindi più appartamenti magari un pochino più mini però una accoglienza maggiore per quanto riguarda sapete urbino è una città molto visitata dai turisti ma c'è anche la presenza costante degli studenti i quali devono seguire le lezioni e quindi hanno bisogno di una residenza urbinate e appunto questa è anche una risorsa economica per molti residenti nella città ducale che dagli affitti ricevono un importante sostegno economico comunque meno metri quadri per case e alberghi diffusi sempre sul resto del carlino vediamo la pagina di fano che evidenzia ancora quello che determina il caro vita rincari rischio stangata nelle case di riposo se va avanti così siamo costretti a ritoccare le rette al cante di montevecchio una delle principali case di riposo di fano non c'è più nulla da tagliare ha detto giovanni di bari che è il direttore del cante la coordinatrice d'ambito galdenzi nelle prossime settimane i problemi emergeranno dal covid al caro bollette le case di riposo veramente sono stritolate dalle emergenze tra servizi che non si possono ridurre erette da non aumentare del resto non si può ridurre nemmeno la luce non si può ridurre il riscaldamento si tratta di anziani questi servizi sono essenziali ma questi servizi sono schizzati alle stelle e si evidenzia un problema si evidenzia un problema sotto diversi aspetti l'abbiamo visto per quanto riguarda l'economia del commercio l'economia dell'artigianato della produzione dell'industria abbiamo visto come il problema incombe sulle famiglie e ora anche sulle case di riposo insomma tutto il mondo è investito di questo problema c'è il problema ma ancora non c'è la soluzione nei condomini due ore in meno di caldo almeno questo è un pagliativo che viene utilizzato per ridurre un pochino e la spesa mantenere in tutto l'appartamento a una temperatura media di 18 19 gradi sono le disposizioni degli amministratori che scrivono ai residenti per ora sono solo consigli poi si tratterà di decidere nelle assemblee di condominio e qui si parla ancora del max impianto agri voltaico di carrara max impianto i padroni dei terreni chi sono i padroni dei terreni che vengono venduti alla società che ha proposto la realizzazione di questo progetto ebbene il campo appartiene all'impianto imprenditore roberto taus il vicino che si chiama della santa ha invece rifiutato l'offerta la società era interessata ad acquistare 140 ettari in realtà poi quelli in ballo sono 45 quelli che appartengono all'imprenditore roberto taus cosa dice taus dice che la società era interessata ad acquistare complessivamente circa 140 ettari di terreno io ho dato la disponibilità per 67 ettari dei quali 45 occupati dall'impianto che sono i terreni di nostra proprietà per poi aggiungere se l'impianto si realizzerà bene in caso contrario per noi non cambia nulla tanto più che la proposta economica allora due anni fa era vantaggiosa ora non lo è più quindi poco male e si parla anche del biodigestore insomma campi fotovoltaici biodigestore questo territorio viene veramente sconquassato da progetti di investimento che insomma vengono lì rimangono al palo biodigestore nessun avvicinamento con marche multiservizi l'amministratore delegato francesco de angelis di feronia dice che la società intende costruire l'impianto a barche ormai lo sappiamo chiarisce dopo i rumors però non venderemo mai l'autorizzazione c'erano delle voci che rincorrevano intorno a questa decisione e lui la nega i costi 23 milioni sono in linea con quanto preventivato parliamo con tutti ma non agiamo anche da soli questo è la dichiarazione e siamo in conclusione con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa io vi saluto vi do appuntamento a domani alle sette per le notizie del giorno a occhio alla notizia alle 20 e 30 di questa sera per le notizie del giorno io vi ringrazio dell'ascolto vi saluto e vi auguro una buona giornata